Musica 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 Avvio la busta e annuncio i nomi dei vincitori The Tao Awards 2019 Iniziamo con primo Tao Awards per la moda andrà ad Iceberg quindi premio imprenditoria e moda a Paolo Gerani secondo premio per la moda quindi secondo Tao Award per la moda Ultra Chic Diego Dossola e Viola Baragiola premio Excellent Hot Couture andrà alla Maison Curiel nella persona di Raffaella e Giuliana Curiel quarto premio per la moda andrà ad Alberto Zanbelli e poi premio per il design da Francesco Librizi premio per la fotografia ad Arturo Delle Donne per il giornalismo Tao Award Excellence a GQ Italia rappresentato dal direttore Giovanni Audi Fredi poi premio per il giornalismo televisivo a Franco Fatone premio per il giornalismo multimediale a Luca Ranzoni l'Excellence Art Fashion a Carla Sozzani già menzionata prima premio per la cultura Vera Dreboi e poi ancora premio per la valorizzazione dei siti storico-culturali attraverso la moda andrà ad uno degli influencer più importanti al mondo ovvero Beppe Angiolini e poi un premio speciale andrà a Francesco Tombolini neopresidente di Camera Barrier Italia e noto manager di carattura internazionale premio speciale andranno a Ara Lumiere Francesco Capriso e Salvatore Piccione Gli altri premiati saranno annunciati in sede Edita o Moda Caffè Letterario assieme a Catena Piorello ricordo che gli altri due premi sono categoria Attrici e Attori e il premio per l'imprenditoria Excellence grazie grazie Grazie.